Grazie a tutti. Permettiamo. Grazie. No, innanzitutto io sarei molto interessato a un sistema di quote perché nella mia azienda siamo un grande minoranza come uomini, quindi mi piacerebbe, soprattutto anche nei ruoli veramente di executive team o di management team, quindi è un tema veramente trasversale. La nostra è un'azienda che si occupa di editoria professionale e ha ormai da un decennio innestato una parte di applicativi software molto importanti, quindi un settore che tradizionalmente non è umanistico, quindi è più scientifico, quindi tendenzialmente nel vissuto comune, nel pensato comune è un settore più maschile. E invece noi abbiamo ancora un bel 64% di personale femminile nel totale della nostra azienda che è un piccolo paese, non una media città, ma insomma comunque ha la sua bella rilevanza. Ma anche noi abbiamo onestamente avuto l'esigenza negli anni di trovare tutta una serie di strumenti a tutela delle ragazze, delle donne che in azienda crescevano, crescevano bene, ricoprivano ruoli sempre più importanti. Per cui grazie proprio alle tecnologie siamo riusciti ad attivare degli strumenti di telelavoro, ma non riservato esclusivamente a ruoli operativi, ma anche la gestione di progetti, lo sviluppo di iniziative anche in ambito marketing molto importanti, sono state proprio portate avanti con tematiche di telelavoro parziale, quindi 3-4 giorni da settimana, altrimenti si rischia di perdere il contatto poi con l'azienda vera e propria. Abbiamo ovviamente fatto convenzioni con asili e tutto quello che potevamo, perché ovviamente avevamo tutto l'interesse, nel senso che le nostre risorse, probabilmente la maggior parte delle nostre risorse migliori avevano queste esigenze e noi come azienda abbiamo cercato di risolverle. Facendo un discorso invece un po' più ampio, un po' più generale su quel che riguarda la tecnologia, io credo che sia veramente importante un po' tutto quello che è uscito, emerso fino adesso, ovvero sia la tendenza ad essere multitasking ed essere ovviamente avere la domanda di esserlo, no? Perché poi è chiaro, è bello e dà anche più valore alle cose che facciamo, farle in profondità, no? Però la tecnologia porta dietro a sé l'opportunità e quindi anche il rischio di sostituire in certi aspetti, in certi momenti, il fattore umano, il fattore premiante dell'attenzione su una serie di temi e quindi come tale di non andare in profondità su nessuno. Questo è un aspetto molto importante, noi abbiamo tante diverse location, il fatto delle tecnologie ci hanno permesso di eliminare tutta una serie di attività a basso valore aggiunto, fatemi dire transazionali e quindi di concentrarci, io mi occupo di risorse umane ma un po' tutti, sulle attività a più alto valore aggiunto, quindi quelle che fondamentalmente ci danno anche più soddisfazione quando le compiamo, ci richiedono più impegno ma al tempo stesso ci fanno crescere anche professionalmente e ci motivano maggiormente e quindi le tecnologie noi continuiamo a vederle come un mezzo, come uno strumento, non come un fine o come un obiettivo. E dobbiamo stare molto attenti, il rischio canonico è quello che la mail sostituisca la telefonata o peggio ancora l'incontro vis-à-vis, certe tematiche vale molto di più, io sono un fautore del dire scusate, state nello stesso piano, state un piano di differenza, fatemi la cortesia, datemi la soddisfazione di vedere ogni tanto una schivania vuota, io passo dove sei, sono da un collega. Questo secondo me è un aspetto che non dobbiamo assolutamente perdere e questo, io ho visto prima un elenco di, mi sono trovato abbastanza nell'elenco dei valori che mediamente una donna offre, questo è un aspetto dove devo dire il personale femminile offre una marcia in più. Ovvero sia il comprendere bene il momento nel quale una mail risolve un problema oppure quello nel quale vale la pena invece fare un escalation di livello di comunicazione, se mi consentite il termine. E quindi questo credo che sia un aspetto importante. Per dire brevemente la mia anche sul tema dei giovani nel mondo del lavoro, credo che sia un tema sicuramente che esiste, è verissima la spaccatura a livello contrattuale fra chi ha la mia età e chi ha la fortuna di avere qualche anno in meno. Fortuna per tutta una serie di motivi ma non per quello giuslavoristico diciamo. Però è anche vero che io credo che una tavola rotonda fatta vent'anni fa probabilmente avrebbe sollevato lo stesso tema. Ovvero sia in questo momento l'economia è tale per cui è chiaro che è difficile accedere al mondo del lavoro perché il contesto macroeconomico è questo. Se ci sarà la famosa ripresa che tutti aspettiamo e immaginiamo, credo che tutte le aziende avranno un gran bisogno di persone che siano giovani, abbiano la freschezza, l'energia e anche la conoscenza di tutte le caratteristiche, di tutte le opportunità che la tecnologia offre. Io stesso mi colloco in una fascia di mezzo perché non mi sento ancora senior, però ovviamente non sono junior. Il fatto di avere nel mio gruppo un ragazzo giovane e che tecnologicamente ci fa risparmiare un sacco di tempo per me è un grosso valore. Io non ci rinuncerei mai. Dottor Macari, qualcuno sostiene che, ovviamente non qualcuno, tutti speriamo che ci sia la ripresa, ma qualcuno sostiene che non saremo pronti proprio con le figure professionali necessarie a questo nuovo scenario. Qualcun altro, qui sono un po' maliziosa, ma riporto ricerche fatte, declinano la figura professionale del fatturo con tutta una serie di caratteristiche e competenze che sembrano essere il ritratto di molte delle competenze innate che ritroviamo nella descrizione delle caratteristiche prettamente femminili. Però poi dicono, sì, però quasi tutti i direttori del personale o dell'editorio delle risorse umane sono uomini. Ecco, non so, io non potevo fare la stessa domanda alla dottoressa Possa, quindi la faccio a lei. Ho avuto questo compito e quindi le pregherei ancora di intervenire su questo tema. Cioè, primo, se lei è d'accordo sul fatto che molte delle competenze specifiche sono ancora tutte da definire, che le competenze trasversali sono prettamente femminili, che quelle poi innate, peccato che qualcuno di voi stamattina non abbia potuto sentire la relazione della dottoressa Alice Maddo-Proverbio che appunto ragionava sull'empatia, su questa caratteristica che sembra essere premiante per quello che riguarda le attitudini delle donne. Sì, allora, sì, sì, una battuta veloce. L'unica cosa su cui non sono d'accordo è che quasi tutti i direttori del personale sono uomini. Quindi abbiamo anche una riprova, ma anche nella mia carriera, devo dire, in gruppi di qualsiasi genere mi sono sempre trovato direttore del personale donna e poi piano piano, senza diventare donna, sono riuscito a diventare direttore risorse umane e questo, devo dire, mi ha gratificato. Ma è vero, quello che lei diceva dell'empatia era un po' un altro aspetto del saper cogliere l'escalation della comunicazione che citavo prima. Sicuramente devo dire che in questo momento non è chiaro se ci sarà la ripresa, come sarà, è ancora meno chiaro quali saranno le caratteristiche che serviranno al momento in cui parte la ripresa. Però se volessimo divertirci a disegnare questi scenari, credo che buona parte delle caratteristiche che sono state enunciate anche nel nostro stesso panel prima, sicuramente la flessibilità, l'apertura, la voglia di mettersi in gioco, la curiosità e la generosità professionale sono degli aspetti irrinunciabili come acceleratori di carriera. Che questo sia tipicamente una caratteristica femminile devo dire che è vero per tanti aspetti, come diceva prima anche il dottor Cofanieri, anche il maschietto ci arriverà, nel senso speriamo che anche questo, però sicuramente questo è un vantaggio competitivo importante. Allora, sarò meno prudente. Chi diceva che i direttori del personale sono prevalentemente uomini, in realtà voleva significare questo, che i criteri con i quali vengono ancora scelte le persone sono criteri che non tengono conto di un aspetto fondamentale della diversity che è la meritocrazia e che quindi ha una mappatura di competenze che sembrano essere tutte declinate al femminile, c'è ancora una visione da parte di chi assume persone che risente di una cultura aziendale che è un po' obsoleta, quindi la cultura del tempo, la cultura dello spazio, nel negativo, quello è un bravo dipendente perché è sempre disponibile, perché è sempre al suo posto di lavoro, perché si ferma fino a tardi e via di seguito. Bene, detto, oh certo, è un dibattito. Solo brevemente perché in questo caso non è che sono uomini dietro le persone, ma semplicemente sbagliano, cioè non fanno gli interessi dell'azienda, è tutto lì. Ma io ci mettevo un po' di malizia di mio, abbia pazienza. Grazie. Grazie.